Le persone hanno tratto la conclusione che lo stress sia parte della loro vita. Lo stress non è parte della tua vita. È solo che non sai come gestire il tuo corpo, come gestire la tua mente, come gestire le tue emozioni o le tue energie vitali. Ogni cosa accade per caso. Quindi, se le cose accadono a modo tuo, hai iniziato a capire, nel mondo, che lo devi progettare. Lo stesso vale per te. Perché? Nessuna ingegneria interiore è stata fatta su di te. Non è così? Solo a caso. Stai cercando di accadere. Ora sto parlando di creare il tipo di chimica giusta dentro di te, in cui essere in pace e beato è semplicemente naturale per te. Questo è un programma in sette fasi che ha trasformato milioni di vite. Questo è uno strumento. Non è una filosofia. Non è un'ideologia. Non è una nuova religione. Questa è una tecnologia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.